Dea Carolei da oggi è un nuovo brand che racchiude la produzione di un particolare olio extravergine di oliva che vantaggia la denominazione Dop Lamezia, un prodotto di eccellenza morbido e ricco con punti aggradevoli di amare e piccante che si sposa con tutta la cucina mediterranea, sia a base di carne che di pesce o prodotti trasformati come i salumi e i formaggi. Noi abbiamo una IGP per tutta la regione e abbiamo appena presentato un marchio unico e poi ci sono tante DOP come questa DOP Lamezia che oggi fa un deciso passo in avanti con questa iniziativa che noi consideriamo un'iniziativa di grande interesse perché finalmente abbiamo giovani, donne, uomini, imprenditori capaci che stanno cambiando il racconto della nostra olivicoltura. Innanzitutto abbiamo iniziato ad imbottigliare in maniera seria e poi cominciamo a coltivare oltre che i nostri oliveti anche quella che io considero fondamentale, l'ambizione della qualità. L'etichetta unica significa fare squadra, significa stare insieme, significa presentarsi con un unico marchio ombrello sui mercati nazionali ed internazionali dicendo chiaramente che ci siamo stancati di vendere il nostro olio sfuso facendo la fortuna di altri che il nostro olio ce lo imbottigliamo e lo vendiamo noi capitalizzando i guadagni per i nostri produttori. Prodotto esclusivamente in nove comuni della Piana di Lamezia e tutelato dall'omonimo consorzio, l'olio extravergine di oliva in vendita anche in versione bio può contare da oggi per le aziende che hanno aderito al progetto anche su un'etichetta unica impressa su una bottiglia che si rifà ai miti dei segreti della Magna Grecia e propone il concetto di svelamento per un segreto da condividere e fare conoscere sui mercati nazionali e internazionali anche grazie ad una veste elegante e a un packaging originale. Parliamo intanto di una delle aree più vocate della nostra regione, la Piana di Lamezia Terme dove nasce la cultivar tra l'altro Carolea ed è la cultivar predominante della nostra regione ma è la prevalente nella Piana di Lamezia, ha dato la possibilità di realizzare anche questo percorso. Oggi c'è la possibilità anche attraverso questa iniziativa di imbottigliarlo e dargli un'identità ben riconoscibile tra l'altro con un'etichetta che raggruppa tutte le produzioni della DOP Lamezia e quindi con la stessa immagine si dà la possibilità al consumatore di identificare un'area ben precisa.